La cooperativa Genesis festeggia dieci anni di attività con l'inaugurazione della prima fattoria sociale del Metapontino. Alla giornata inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Braia, il consigliere regionale Luigi Bradascio, il sindaco Rocco Leone con l'assessora Stefania Albanese, Carla Liuzzi, referente per gli interventi assistiti con animali della cooperativa, lo psicoterapeuta Eugenio Milonis e Domenico Guarino, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Policoro. La fattoria Paddi è il risultato di anni di intenso lavoro che ha visto gli operatori della cooperativa sociale Genesis costruire passo a passo il piccolo tesoretto di asini, caprette, oche e conigli. Attraverso la relazione uomo-animale e uomo-natura, la cooperativa sociale Genesis propone percorsi di cura da svolgersi all'interno della fattoria sociale, sotto la guida degli operatori e della dottoressa Carla Liuzzi. Allora, con questo incontro noi vogliamo portare la nostra esperienza nell'ambito delle attività assistite con gli animali, poiché è dal 2007 che svolgiamo questo tipo di interventi. Riteniamo che in questo momento particolare, in cui c'è l'accoglimento delle linee guida da parte della regione Basilicata, in cui si parla di agricoltura sociale e di fattorie sociali, è necessario confrontarsi e mettere a punto delle strategie affinché questi interventi possano avere la loro reale valenza educativa, riabilitativa, terapeutica ed educativa attraverso delle strategie comuni. E quindi questo incontro vuole essere un momento di dialogo tra le varie rappresentanze, sia a livello politico, sia a livello sanitario e sia come operatori sociali. Che attività farete all'interno della fattoria sociale? Allora, noi nell'ambito della fattoria svolgiamo attività assistite con gli animali, rivolte sia ai minori della nostra casa famiglia, che è una comunità educativa per minori, quindi parliamo di minori per i quali viene definito un progetto educativo. All'interno di questo progetto decidiamo quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, quindi possiamo decidere di lavorare a livello emotivo, a livello cognitivo, a livello motorio. Di conseguenza, in base al programma che viene stabilito, finalizziamo le attività qui in fattoria. Inoltre rivolgiamo le nostre attività anche ai ragazzi con disabilità e anche ai ragazzi con problematiche psichiatriche. Le attività possono essere delle attività ludiche, possono essere delle attività psicomotorie, possono essere delle attività manipolative. L'animale diventa per noi un mezzo che ci consente di stimolare abilità, potenzialità. La fattoria Paddi non è destinata solo alla terapia, essa è infatti un'opportunità di educazione globale di importanza strategica per il territorio ed è pertanto a disposizione delle scuole, dei gruppi e delle famiglie con attività mirate e divertimento assicurato.